E dopo che nostra Signora ha preso in mano la mano di Gesù e ha contemplato le ferite delle sue mani, le ferite dei suoi piedi, le ferite del suo cuore, la Madonna ha asciugato il nostro Signore e si è preparata per portarlo nel sepolcro. Ma prima c'era di fare l'unzione e quindi la Madonna con Santa Maria Maddalena, con altre donne hanno cominciato a ungere il corpo di Gesù. Quindi c'era vicino al Calvario una pietra dove hanno appoggiato il corpo di Gesù. Anzi, prima di appoggiarlo su questa pietra, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, che avevano già comprato un lenzuolo nuovo, hanno prima messo il lenzuolo, poi hanno messo il corpo di Gesù sopra, hanno appoggiato il corpo di Gesù sopra questo lenzuolo e hanno fatto l'unzione con l'olio, l'unzione con i profumi che Nicodemo aveva portato. Quindi le piedone con la Madonna o la Madonna con le piedone hanno unto il corpo di nostro Signore, lo hanno preparato per la sepoltura, come fanno gli ebrei. E dopo hanno avvolto il corpo di nostro Signore totalmente con questo lenzuolo nuovo e hanno fatto una piccola processione. Quindi io mi immagino da una parte Giuseppe di Arimatea e Nicodemo e poi da un'altra parte San Giovanni Battista, aiutato già dal centurione forse o da un altro che è lì, hanno preso il corpo di nostro Signore e accompagnato dalla Madonna e da Salome, da Santa Maria Maddalena, lo hanno accompagnato fino al sepolcro. Lì vicino al Calvario c'erano tanti sepolcri, ma c'era uno che era nuovo, scavato nella roccia. In quel posto nessuno era mai stato sepolto. Quel sepolcro apparteneva a Giuseppe di Arimatea. Lui aveva comprato per sé, ma in questo momento lui l'ha dato a Gesù per accogliere il suo corpo. Gesù fu sepolto nel sepolcro di Giuseppe di Arimatea. E anche qui, qua i bambini, Gesù, quando è nato, è nato in una grotta. Non era casa sua. E anche al momento di morire il suo corpo viene messo in un sepolcro che non è il suo. Perché Gesù in realtà non appartiene alla morte. Quindi era solo un passaggio. Dopo tre giorni Gesù sarebbe risorto dai morti e, triunfante, avrebbe vinto la morte. In questo momento, però, loro portano il corpo morto di Gesù al sepolcro. E quindi c'è questa processione funebre. è il sepoltamento di Dio, è il sepoltamento del corpo di Dio, del figlio di Dio fatto uomo. Sono le pompe funebre di nostro Signore. C'erano cinque persone, sei persone, sette persone al massimo, che accompagnava la Madonna, gli accompagnava Gesù. Pensate al dolore della madre e anche alla sua serenità. La sua serenità era la nostra Signora che cercava di consolare gli altri, di consolare San Giovanni, di consolare Santa Maria Maddalena. E quindi portano il nostro Signore perché il sepolcro era proprio vicino. C'era questo sepolcro scavato in una roccia e intorno c'era un giardino. E Gesù è morto in primavera. Era il mese di Nisam, secondo gli ebrei, che oggi sarebbe aprile. Quindi c'erano già i primi fiori della bella stagione. E quindi intorno a questo sepolcro c'era un giardino. Ah, come nell'Antico Testamento Adamo e Eva sono stati messi in un giardino che era un paradiso, così Gesù, il nuovo Adamo, viene sepolcro e sepolto in questo giardino. E quindi arriviamo alla quattordicesima stazione. Gesù. Gesù è posto nel sepolcro. Nel sepolcro c'era una anticamera e poi c'era la camera mortuaria. Erano come due piccole stanzette. Quindi l'anticamera, uno arrivava e poi la camera mortuaria era più piccola. c'era un posto nella roccia dove veniva depositato il corpo della persona morta. Quindi loro sono entrati nella anticamera. Non tutti, non c'era spazio per tutti. Ma poi quattro persone massimo sono entrati nella anticamera, nella camera mortuaria propriamente. E quindi hanno depositato il corpo di nostro Signore come se fosse un gradino un po' più elevato che c'era spazio perché non c'era, non c'era la barra, non si usava la barra. Il corpo di nostro Signore era avvolto in questo, in questo, in questo lenzuolo che noi veneriamo a Torino. Quindi Gesù era avvolto nel lenzuolo e questo lenzuolo è stato depositato, deposto su questo banco, diciamo così, banco di pietra. E lì ancora hanno messo altri profumi, altri unguenti e tutto il sepolcro era di un odore straordinariamente bello e buono. Era tutto profumato il sepolcro di nostro Signore, scavato nella roccia, era bellissimo. Quindi nostro Signore è stato lì e poi pensate, immagino la Madonna che vena, chi adora, chi adora il corpo di nostro Signore perché il corpo di Gesù è sempre il corpo di Dio. Quindi la Madonna adorò il corpo di nostro Signore senza vita, il corpo di nostro Signore che aveva dato la vita per noi. Quindi la Madonna onorò, adorò il corpo di suo Divino Figlio, poi anche le piedone, Santa Maria Maddalena in particolare, Giovanna, Salome, poi Nicodemo, Giuseppe di Mattea, San Giovanni, piano piano sono usciti dalla camera mortuaria e poi loro hanno fatto rotolare una pietra che ha chiuso l'ingresso del sepolcro. Questa era una pietra troppo grande, era un macigno, ci volevano parecchie persone per muovere questa pietra. Hanno chiuso tutto e poi piano piano loro hanno accompagnato la Madonna fino alla sua stanza vicino al Cenacolo dove lei si era stabilita in quei giorni di Pasqua, anche c'erano gli altri Apostoli là dentro, tutti nascosti con paura degli ebrei e dei soldati. Quindi Gesù viene seppelito in questo sepolcro, in questa grotta, diciamo così. E nostro Signore passerà in questo sepolcro tre giorni, tre giorni completi, ma tre giorni. Parte del venerdì, perché quando Gesù è stato sepolto era già quasi il tramonto del sole, quindi era sera, già finiva quasi il giorno. Quindi Gesù è stato parte del venerdì, poi ha passato tutto il sabato nel sepolcro e nei primi albore, nelle prime luce della domenica, Gesù risorgerà. Nostra Signora passò quindi tre giorni senza vedere Gesù, ma la Madonna credeva che Gesù dopo la sua morte sarebbe risorto, avrebbe risorto e quindi Nostra Signora aveva molta speranza nel suo cuore. Tanto dolore, ma tanta speranza e tanta fede. Anzi, questo mondo era tutto buio, perché tutti avevano perso la fede in Gesù. San Pietro non credeva più, San Bartolomeo non credeva più, tutti gli apostoli avevano perso la fede in Gesù. Solo la Madonna credeva veramente nella divinità di Gesù, nella sua risurrezione. Quindi la Madonna, la sua anima era come una candela accesa, l'unica candela, l'unico lume acceso era l'anima della Madonna che aspettava la risurrezione di Gesù. La Madonna, cari bambini, è il modello di fede. La Madonna ci aiuta a credere e noi dobbiamo domandare molto alla Madonna la virtù della fede contro tutto, contro tutte le evidenze di questo mondo. Noi dobbiamo chiedere alla Madonna la grazia di credere. Io credo, credo, credo in Gesù Cristo, figlio di Dio morto per me, credo nella vita eterna, credo nella Santissima Trinità, io credo tutto quello che la Santa Madre Chiesa mi insegna. Io sono un uomo di fede, io ho una fede da eroi, la mia fede ha come madre la madre di Dio, quindi io sono un uomo di fede, io ci credo, credo in Dio, credo in Gesù Cristo, credo nella Chiesa. Il mondo può ridere, possono prendere in giro, non mi importa, io credo. Così deve essere la fede di un bambino saggio, di un bambino che ama Gesù Cristo. Impariamo con la Madonna a essere, a credere, a credere fino in fondo. Quindi, noi, prossima volta, possiamo parlare di più ancora sulla passione di Cristo e faremo una catechesi solo sulla resurrezione di nostro Signore. Va bene? Allora, vi saluto con tutto il cuore, vi benedico con tutto il cuore, e voi, cari bambini che siete a casa, chiusi, non potete uscire, offrite questo piccolo sacrificio per amore di nostro Signore. Allora, a presto, Dio vi benedica. Allora, a presto, Dio vi benedico con tutto il cuore, vi benedico con tutto il cuore, vi benedico con tutto il cuore.